Anche se è una giornata siamo entrati a far parte comunque dell'Aeronautica Militare, una base molto grande dell'Aeronautica Militare, quindi è molto interessante magari per chi vuole seguire questa passione, è stata una bellissima esperienza sinceramente. Questi piloti molto interessano nel volerci comunque farci entrare all'interno, spiegare e comunque questo per noi è stato molto importante perché ad esempio io sono una di quelli che vorrebbe seguire questo percorso. Piloti per un giorno dall'Aeronautica Militare nelle scuole alle scuole in Aeronautica. Con la visita all'Aeroporto di Pratica di Mare degli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti superiori di Terracina, Leonardo da Vinci, Bianchini e Filosi, si è conclusa l'iniziativa Aeronautica 4.0 ideata dalla Rotary Club Terracina Fondi e il Comune di Terracina. Sarei molto tentata di volare con loro per un viaggio mio personale. Hanno permesso a noi studenti di avere una visione più aperta e di capirne di più su questa cosa che permette anche dello Stato italiano di essere più protetto militarmente. Visita al centro sperimentale di volo. Prima un'illustrazione dell'attività in Aulamagna, confronto e dibattito e scambio dei riconoscimenti tra Rotary e Aeronautica. Anche per me che sono Presidente del Rotary è un po' ritornare sui banchi di scuola perché entrare in un aereo militare è stata una cosa veramente molto emozionante. A seguire visita alla linea volo con esposizione tra pista e hangar di aerei per la difesa e attacco e trasporto dall'Eurofighter al tornado intorno ai quali si scatena la curiosità degli studenti. Sono avvenivoli sia di prima linea di combattimento con le chiamo noi che di supporto, in particolare di trasporto, sì. Vengono fatte attività, appunto, come dicevo, di sperimentazione e di collaudo. I concetti di difesa dagli spazi aerei e sicurezza della nazione caratterizzano l'incontro che si conclude con un grande quadro d'insieme, oltre 120 persone tra studenti, militari e organizzatori dell'evento. Spesso non ci pensiamo, ma loro vegliano su di noi ed è importante saperlo per prenderne coscienza e perché questo poi giustifica anche gli investimenti che bisogna fare talvolta sull'esercito in generale e sull'aeronautica militare in particolare. Noi abbiamo voluto portare, far avvicinare i ragazzi delle scuole al nostro mondo. Abbiamo portato la nostra esperienza personale di quello che facciamo in aeronautica militare e alla conoscenza di questi ragazzi, in modo che chiaramente si appassioneranno alla nostra forza armata e ci avranno un maggiore senso, appunto, dello Stato e delle istituzioni e della sicurezza che le forze armate tutte, i corpi armati dello Stato offrono a tutti i cittadini. Grazie a tutti.